Quale rivitalizzazione del centro storico è possibile senza la ricostruzione? Nel dibattito sollevato nelle ultime settimane dai commercianti dell'Aquila sull'invivibilità della città a causa della mancanza dei parcheggi e per la presenza dei mezzi delle ditte edili, interviene a muso duro anche l'Associazione Piccole e Medie Industrie. Nel mirino dei commercianti, in particolare del neonato comitato dei negozianti del centro storico guidato dal presidente Ugo Mastropietro, sono finite infatti anche le imprese edili colpevoli di invadere strade e piazze con i loro mezzi in modo indiscriminato e di non consentire la ripresa di una vita quotidiana e sociale normale con i commercianti che chiedono un ingresso controllato dei mezzi edili in centro. La risposta del presidente dell'Api Industria Provinciale Massimiliano Madifiamma a chi punta il dito contro gli operai dell'edilizia non si fa attendere. Coloro che hanno deciso di riportare le proprie attività in centro negli ultimi anni d'altra parte avrebbero dovuto essere consapevoli di farlo nel pieno di un enorme cantiere a cielo aperto. Bisogna essere obiettivi e la storia di questo terremoto è che chi è tornato in casa ha cominciato a cambiare idea. Quelli che sono tornati in casa delle B e delle C hanno cominciato a dire che non andava bene il contributo di autonoma sistemazione per chi non aveva casa. Allora noi stiamo rischiando sempre conflitti. Il centro non è finito, il centro è molto in là da finire. È a un buon punto, devo dire che forse è anche meglio di quello che ci aspettavamo, sta venendo una gran bella città, ci sono i cantieri, ma i cantieri bisogna finirli, bisogna ricostruire, bisogna rimettere tutti i residenti in centro, bisogna incentivare le persone perché hanno una città che funziona a tornare in centro, bisogna far sì che gli studenti trovino affitti a prezzi calmierati e anche le attività commerciali, perché se noi non finiamo i palazzi, non finiamo neanche i locali commerciali e meno ce ne sono a disposizione più costerà l'affitto. Quindi la priorità assoluta è la ricostruzione, dopodiché possiamo discutere di decoro urbano, di iniziative. Ora noi nel frattempo stiamo mettendo delle pezze, facciamo manifestazioni, iniziative che funzionano ogni tanto, non danno una continuità, ma la continuità non è possibile se non abbiamo una città che funziona. Quindi io invito l'amministrazione comunale, a parte al confronto, prima di prendere delle decisioni, perché sicuramente più teste pensano meglio di una sola, e quindi direi che con un confronto riusciamo a coniugare il tutto, ma deve essere chiaro che il faro guida deve essere la ricostruzione di questa città.